Come si innamorano gli uomini? Una domanda che fanno molte donne che non riescono a capire è come si innamorano gli uomini, alcune sbagliano pensando che si innamorano facendo sesso, invece è proprio il contrario, gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, si disinnamorano un po' quando lo fanno, perché il farlo significa pagare le proprie esigenze, quindi devi tendere la corda e farli desiderare il più possibile. Certo, poi un po' di appagamento ci vuole, anche perché alla parte logica interessa questo, ma successivamente penalizzare, magari evidenziando indirettamente, analogicamente, di non essere stata molto soddisfatta in modo tale che lanci la sfida. Ecco, questo da un punto di vista comportamentale è quello, devi spingere il desiderio negando il possesso. Comunque seguimi su YouTube, canale Massimo Terramasca appunto, e scoprirai tutti i segreti per far innamorare gli uomini. Ciao! Grazie a tutti!